rispondi a questa domanda Mr. Andrew qual è la parte migliore di te? la gente ha sempre il bisogno di farsi un'idea di chi sei la presunzione di possederti e poterti descrivere ci sta ma qual è il limite? e se guardando negli occhi il tuo nemico non vedessi altro che il riflesso di te stesso che importanza daresti alla volontà del caso? ci sono molte storie in te e molti risultati che vuoi raggiungere al di là di quello che potrebbe essere stato un passo falso dunque rispondi a questa domanda Mr. Andrew qual è la parte peggiore di te? ciao 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 ciao